Le migliori cantine del territorio romagnoli insieme a produzioni tipiche di altri territori italiani saranno al centro di Calici di Stelle, evento di Verucchio che torna per il terzo anno consecutivo in occasione del fine settimana estivo dedicato alle stelle cadenti. Due serate nelle quali numerose saranno le opportunità per assaggiare vini e bollicine di qualità. Nel corso dell'evento si terranno anche punti di degustazione di specialità locali, esibizioni di musica dal vivo e molto altro ancora, animando tutte le vie del centro storico. Verucchio per il terzo anno conferma una scelta anche di qualità e di particolare suggestione mettendo a disposizione i propri gioielli architettonici, la Rocca Malatestiana e il Museo Civico Villanoviano all'interno dei quali si svolgeranno delle manifestazioni particolari. Alla Rocca vengono riconfermati il gruppo degli astrofili, il gruppo Copernico che darà la possibilità a tutti quanti gratuitamente di vedere le stelle e soprattutto quest'anno la degustazione anche dello champagne con l'ambasciatrice italiana dello champagne che ritorna per il secondo anno e ci fa questo grande onore di venire a spiegare diversi terroir francesi. La particolarità inoltre di quest'anno è la degustazione, grazie al CRPV di Faenza, del vitigni di Verucchio, quindi parliamo di un vitigno rosso, il verruccese, della vernacina bianco che sono stati reimpiantati in loco, poi ancora a disposizione gratuitamente di tutti quanti, la visita guidata al Museo archeologico. Protagonista assoluto il vino che essendo espressione di un territorio e dell'uomo si colloca ed integra perfettamente in un contesto storico-culturale come Verucchio. Abbiamo cercato di valorizzare quello che ci sta attorno. Il Calici di Stelle è non solo la manifestazione fine a se stessa ma veramente un'occasione per promuovere un territorio a 360 gradi. Abbiamo puntato sull'eccellenza del territorio. Appuntamento domenica 11 e lunedì 12 agosto nel centro storico del borgo medioevale nella Rocca Malatestiana, punto panoramico per eccellenza e nei tanti balconi naturali del paese.